E' stata un'udienza a lunga, perché? Intanto perché chi ha discusso l'abbreviato è stato circa un'oretta, quindi poi il resto del tempo è stato occupato per parlare ai parti civili e quant'altro. Per quanto riguarda noi, nel momento in cui ci hanno contestato quel tipo di aggravante, non possiamo fare l'abbreviato, avevamo chiesto di definirlo subito, andremo al dibattimento. Su questo siamo sicuri. Quindi si pronuncerà adesso sulla condanna a carico di Madonna? E' sul nostro dubbio a giudizio, però è un dato pacifico.